Il figlio dell'uomo mosca, lo scienziato che, in un arrischiato esperimento, assimilò i cromosomi di un insetto diventando mostro, vive fin dall'infanzia una dura vita di genio segregato, in balia di un riccone che vorrebbe fargli ritentare gli esperimenti del padre. E il ragazzo lo serve a puntino, chiudendo il riccastro nella macchina diabolica paterna e abbinandolo non più a una mosca ma a un cane.